Esilitato di un'ora il Consiglio Comunale di Mascali, che era stato convocato per ieri sera alle ore 20 e 30, a causa della mancanza del numero legale. In prima convocazione, infatti, erano assenti buona parte dei consiglieri di maggioranza. Polemico sulla circostanza, il consigliere di opposizione Carmelo Caltabbiano. Probabilmente la maggioranza non aveva i numeri sufficienti per garantire il numero legale e quindi ha ritenuto probabilmente andare via per questa ragione. Certo, una maggioranza che inizia ad avere problemi a raggiungere il numero legale per poter effettuare le sedute e approvare l'ordine del giorno, inizia a scricchiolare sicuramente. Questo almeno noi lo immaginiamo e lo auspichiamo. Oggi all'ordine del giorno molti punti importanti. Sì, ci sono dei punti importanti che piuttosto ci sono delle cose che devono essere fatte necessariamente per legge, come appunto la costituzione della centrale unico di committenza. E poi invece è stato proposto al Consiglio Comunale l'approvazione del piano ARO, cioè della nuova disciplina di gestione dei rifiuti, che purtroppo arriva largamente in ritardo, in quanto l'ultima ordinanza del Presidente della Regione del giugno ultimo scorso invece imponeva che tutte queste procedure dovessero essere concluse dai vari ARO entro il 7 luglio scorso. Questo non è accaduto e pertanto l'approvazione di questa sera, ammesso che la maggioranza vi provveda, non avrà nessuna efficacia e nessuna validità perché nel frattempo si sta anche procedendo alla Regione siciliana ad approvare una nuova legge per il riordino appunto del sistema integrato dei rifiuti. E questa nuova legge sostituirà l'attuale legge 9 del 2010 per cui tutto il lavoro proposto questa sera in Consiglio Comunale non avrà validità alcuna. La cosa che però ci fa insospettire, ci fa pensare è che l'attuale servizio, per quanto possa essere considerato più o meno scadente perché non si fa la differenziata a mascale e quindi non sono stati rispettati nemmeno questi obiettivi, comunque ad oggi prevede una spesa annua di circa 1.275.000 più IVA circa 1.300.000 per parlarci così in maniera lineare. Il piano ARO che portano questa sera all'attenzione del Consiglio Comunale prevede una spesa di 1.875.000 più IVA quindi 2.100.000 erotti l'anno. Mi perdoni ma non è incluso quindi la differenziata in questa nuova spesa? La differenziata è già prevista nell'attuale servizio perché si va di proroga in proroga rispetto a un disciplinare del lato Ioni Ambiente che prevedeva appunto la differenziata. Ricorderanno i cittadini che a mascale si faceva la differenziata negli anni 2010-2011 poi non si sa come è stata sospesa e non è stata più ripresa, però il tipo di servizio che noi paghiamo è per la differenziata. Sul punto relativo alla gestione integrata dei rifiuti, l'assessore alla nettezza urbana Alessandra Amante ha chiarito al Consiglio che la maggiorazione della spesa del servizio è dovuta all'adeguamento del costo del personale e al fatto che cambiano le modalità di gestione e di organizzazione del servizio. Una volta avviata la raccolta differenziata, ha spiegato l'assessore Amante, la spesa dovrebbe ridursi anche perché si riduce il costo del conferimento in discarica. Questi chiarimenti non sono stati sufficienti per gli otto consiglieri di opposizione che hanno votato contrari al punto, che tuttavia è stato approvato con gli unici voti favorevoli della maggioranza. È stato approvato all'unità dei presenti il punto relativo all'adesione del Comune di Maschera alla Centrale Unica di Committenza. Il geometra Salvatore Torrisi, responsabile del servizio a parti pubblici e manutenzione, ha chiarito al civico consesso come per obbligo di legge il Comune deve aderire alla Convenzione per l'acquisizione di beni e servizi e per effettuare quindi le gare d'appalto.